Siamo a Tarzo, in provincia di Treviso, in un cantiere, una villa del 1600. Abbiamo smontato completamente il tetto perché le tavie erano andate. Il cordolo del tetto l'abbiamo alzato di 50 cm, i travetti rifissati con le viti vostre, è un prodotto proprio buono. Generalmente usate anche altri prodotti? Generalmente usiamo anche prodotti, avete una buona gamma. Generalmente con prodotto Fischer non sbagliamo. Grazie. Grazie a tutti.